Innanzitutto, nella mia veste di imprenditore, dico agli imprenditori che bisogna sempre avere un comportamento di assoluta correttezza, di assoluta onestà. Ci vuole sempre tantissimo impegno, tantissima capacità di sacrificarsi e soprattutto avere sempre avanti un traguardo. Un traguardo progetti da raggiungere indipendentemente dalla nostra età anagrafica e a mio parere il segreto è anche quello di riuscire a rendere i nostri collaboratori motivati e orgogliosi di lavorare in un'azienda che sentono sta guardando avanti. Ma sta guardando avanti non solo per l'imprenditore, sta guardando avanti anche per tutte le persone che l'imprenditore fa lavorare. Come ingegnere, ai colleghi ingegneri, liberi professionisti o dipendenti, dico innovate, pensate diverso, pensate differente come diceva il grande Steve Jobs. Questo è l'unico modo in un paese come il nostro per riuscire ad andare avanti, solo così il nostro PIL può aumentare.